Verso il rito immediato per il 37enne, Cortonese è arrestato lo scorso 30 maggio con l'accusa di aver violentato la moglie dopo averla sorpresa in auto con un amico. L'episodio risala la notte tra il 23 e il 24 maggio scorsi. Le versioni dei due coniugi sono diametralmente opposte, lei sostiene infatti di essere stata prima aggredita e poi stuprata all'interno della casa. Il marito invece ha sempre parlato di un rapporto consenziente. A breve dunque si potrebbe andare a processo. Sia il PM Chiara Pistolesi che l'avvocato difensore dell'indagato Domenico Nucci infatti sarebbero d'accordo sul rito immediato dunque senza le indagini preliminari e il filtro dell'udienza preliminare di fronte al GIP. La difesa del 37enne inoltre ha già annunciato che non ci saranno richieste diritti alternativi. Nessuno al momento ha chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare così la versione della moglie che dunque potrebbe presentarsi in aula testimoniare. L'uomo intanto resta detenuto nel carcere di Terni dopo che il GIP a Fabio Lombardo alcuni giorni fa ha respinto in distanza per gli arresti domiciliari presentata dalla difesa. Nei prossimi giorni inoltre saranno depositati i risultati sulla perizia disposta dalla procura sulla penna pistola che sarebbe stata in uso al 37enne. Il Tribunale di Arezzo infine aveva disposto il sequestro a scopo precauzionale delle 93 armi da fuoco regolarmente detenute trovate all'interno dell'abitazione dell'uomo.